E te ne pare? Te la sogno una cosa del genere, eh? Riesco a creare correnti ascensionali che sono opere d'arte. I rito sono gli incontrastati padroni del cielo e io sono il migliore di tutti. Grazie a questa tecnica, quando affronteremo la calamità Ganon, saremo in vantaggio, dammi retta. E poi? Non c'è nessuno che mi può battere con l'arco. Insomma, se non l'hai capito, sono io, il grande Revali, la chiave per sconfiggere Ganon. E invece mi costringono a fare da balia a te. Solo perché porti quella scalcinata spada che esorcizza il male. Roba da non credere. Che c'è? Non ti sarai offeso. E allora vediamo chi è il più forte. Ma dove? Che ne dici di lassù? Scusa, scusa. Da solo non ci puoi arrivare su quel colosso sacro.